al trono 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 valvole della scuderia Spromonte al suo esordio però non è un novellino eh al suo esordio con le macchine su Peugeot 106 16 valvole Francesco Grugitti vince del Cosenza Corse su Peugeot 106 rally vince il gruppo N classe 1600 Rizzo Domenico Egidio che zitto zitto dal 1400 è passato al 1600 e zitto zitto ci viene a vincere la categoria grazie